La storia di Camilla Mancini e la figlia di Roberto, ex CT dell'Italia è quella di una donna forte e determinata. La 27enne, che un mese fa ha presentato il suo romanzo Sei una farfalla, ha spiegato, Celeste, la protagonista, la affronta temi delicati e importanti, come il bullismo, una ferita che ho conosciuto da bambina. Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore. Il bullismo è una piega sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima e ci sono ragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei bulli. Grazie a tutti per l'affetto che mi state dimostrando, è un dono che non mi aspettavo, che custodisco con gratitudine. Camilla ha poi aggiunto sulla sua esperienza personale, ho avuto un problema durante il parto e sono nata con una paresi facciale che mi ha causato asimmetria al viso, il lato destro ha un movimento ridotto rispetto al sinistro. Parole di una ragazza forte, anche davanti alle molte domande proprio sul suo particolare aspetto. Per questo il papà Roberto, intervendo ai microfoni di TV 2000 ha dichiarato, volevo dirti che sono felice di avere una figlia come te, della tua intelligenza, e di come sei cresciuta, di quello che stai diventando. Stai vivendo questo momento della tua vita con entusiasmo e determinazione, qualità che non ti è mai mancata. Ogni giorno credo sia un'opportunità di scoprire aspetti nuovi di te stessa e sappi che sono qua per sostenerti sempre in ogni passo della tua vita. Complimenti per il libro che hai scritto, è molto bello. Sono veramente orgoglioso di te. E voi cosa ne pensate?